Ben trovati a Memeconomics, vi raccontiamo l'economia e la finanza e le notizie dell'Italia e del mondo attraverso il linguaggio dei meme per farlo in maniera più leggera, più frivola e cercando di strapparvi un sorriso ove possibile. È stata una settimana, un mese, quello di novembre è davvero importante per i mercati finanziari, da ricordare a novembre, sostenuto anche dalla notizia dei vaccini, ha avuto una mensilità, un mese davvero fortissimo e chi l'avrebbe mai detto? Ci mettiamo nei panni di Joy Tribbiani di Frenz perché il fuzzinib a ottobre era 17 mila e 17 punti, a novembre è arrivato fino a 22 mila e 400 punti. Se ce l'avessero detto probabilmente non ci avremmo creduto e avremmo strabuzzato gli occhi proprio come il personaggio di Frenz, anche perché non bisogna dimenticare questa cosa e cioè mentre i mercati viaggiano come lo vediamo nel prossimo meme, un'astronave supersonica a novembre, beh l'economia reale è ridotta a un relitto, questo si trova nella parte sud dell'Islanda e quindi c'è una grande discrepanza tra economia reale e anche e ovviamente economia e i mercati finanziari. Occhio, non vanno sempre a braccetto queste due tipo di economia, quella finanziaria e quella reale e su internet ci sono molti siti internet, molti video che magari cercano di farvi, cercano di convincervi che c'è un legame forte, beh insomma attenzione, non fidatevi altrimenti va a finire che vi ritrovate nelle mani di chi dice seguitemi per altri consigli finanziari e quello che fa è un semplice aggiungere uno zero con la penna a una banconota di 10 euro. Attenzione insomma, anche perché non dimentichiamoci anche di un altro fattore e cioè l'economia finanziaria venne sostenuta soprattutto dalle banche centrali, dalla montagna di liquidità che le banche centrali stanno iniettando appunto nei mercati. E a proposito di banche centrali, qui insomma c'è la BCE che non se la passa abbastanza bene, o meglio c'è un po' di tensione all'interno della BCE perché lo vedete qui, euro-dollaro 1,21 ai massimi da aprile 2018, la banca centrale europea più volte ribadito che monitora il cambio e non va bene un euro troppo forte, ecco perché abbiamo pensato al sudore che il protagonista dell'aeropazzo del mondo, Ted Stryker, ecco che lo vediamo insomma impegnato nel far atterrare l'aeroplano, l'aeroplano destinato appunto a precipitare, se non fosse che grazie al protagonista tutti i passeggeri arrivano sani e salvi, però insomma un po' di tensione c'è per quanto riguarda la banca centrale. E a proposito di banche, una delle notizie dei primi giorni di dicembre è quello che riguarda Unicredit e cioè Unicredit è impegnata nella complessa operazione della MNE, della fusione con MPS, ma prima che si andasse a completare questa operazione è successo che Jean-Pierre Mustier, l'amministratore delegato, ha dato le dimissioni, il commiato di Mustier e proprio in virtù di un'operazione, quella con MPS, che appare molto complessa, allora ci siamo messi nei panni di Mustier che, come Paperino dice, quando non riesce a dormire, perché devi fare la fusione con MPS, come detto operazione complessa, molto complessa e vista male anche da diversi analisti e banche d'affari, ma poi ti ricordi che sei Jean-Pierre Mustier, ha appena dato le dimissioni. Sonni tranquilli ovviamente nei panni dell'ex, a questo punto amministratore delegato uscente. A proposito anche in questo caso di banche e di conti correnti, è una notizia anch'essa di inizio dicembre perché sostanzialmente gli italiani tirano un sospiro di sollievo. Di cosa parlo? Parlo di patrimoniale che è stata proposta durante i lavori parlamentari a inizio del mese, poi è stata ritirata, ma è tornata la paura perché pensioni e patrimoniale sono le due cose che fanno più terrore agli italiani, sostanzialmente il prelievo forzoso nei propri conti correnti. E allora abbiamo pensato a Bugs Bunny in versione comunista, questo è un meme che è diventato abbastanza virale, viene utilizzato spesso. In arrivo alla patrimoniale, correntista medio italiano, ci immaginiamo che dica io sul mio conto 10.000 euro, il governo in questo caso dice abbiamo, perché è libero di effettuare, sarebbe libero in caso di patrimoniale di effettuare appunto il prelievo forzoso nel conto corrente di qualunque italiano ne abbia uno. Anche in questo caso vi invitiamo a diffidare magari dai siti con i nomi un po' strani, da quei siti che fanno quell'operazione di click byte, secondo cui ti scrive magari nel titolo che la patrimoniale è in arrivo, ma poi leggi l'articolo e alla fine non viene detto nulla. Insomma fidatevi delle fonti, fidatevi di trend online, fidatevi dei siti più affidabili, altrimenti anche qui vi ritrovate davanti a titoli di questo tipo, magari trovato morto prima era vivo, questa è una locandina che è effettivamente apparsa e allora ci viene anche da dire che ogni 60 secondi in Africa passa un minuto, ce lo racconta il nostro analista con la camicia a quadretti e alla cravatta, probabilmente africano. Voltiamo pagina perché parliamo anche di OPEC, questo è un altro degli appuntamenti più importanti del mese di dicembre. L'OPEC deve mettersi d'accordo se prolungare Italia la produzione, aumentarli, diminuirli e c'è da dire che insomma siamo in un momento in cui i trasporti sono molto più bassi, quindi serve meno petrolio e perché c'è una pandemia in atto, quindi abbiamo pensato che con l'epidemia ancora forte l'OPEC punta a un accordo immediato, ma bisognava fare ancora i conti con Arabia Saudita ed Emirati Arabi che hanno rallentato i lavori e si sono fatti una colossale risata come quella che fa J.K. Simmons nel film Spider-Man 3 e che peraltro un attore negli Stati Uniti molto famoso ha vinto anche l'Oscar con Whiplash, uno dei film più belli con la musica al centro della trama e che ovviamente vi consigliamo. C'è da dire che il prezzo del petrolio in queste settimane oscilla tra i 44 e i 45 dollari al barile, non è un prezzo così basso, anzi gli analisti tendono a prevedere che possa arrivare fino a quota 50, così a breve. Perché? Perché i vaccini sono un ulteriore sostegno ai mercati finanziari, le notizie riguardanti i vaccini oltre alla liquidità delle banche centrali ed è già gara tra i vaccini. Quale sarà quello migliore? Qual è quello che ha l'impatto migliore e che ha l'impatto più efficace? C'è chi parla del 95 e del 70%, ricordiamo come è andata. I primi a parlare sono stati quelli di AstraZeneca con Oxford, quindi insomma AstraZeneca ha dichiarato il vaccino efficace al 70% dopo che per mesi si è parlato di AstraZeneca che lavorava un vaccino. Poi all'improvviso ecco che arrivano Pfizer e Moderna dicono il nostro al 95% e allora così come è entrato AstraZeneca sbattendo la porta con un calcio esce esattamente facendo lo stesso movimento dalla porta nel senso che effettivamente si tende più a dare più, come dire, sostegno, dare più credibilità a Pfizer e Moderna perché hanno di fatto un'efficacia, hanno dimostrato un'efficacia superiore a quella di AstraZeneca che comunque va avanti con i lavori per sviluppare il vaccino. A proposito di vaccini la domanda principale è a chi andrà per primo, chi è che potrà riceverlo per primo? Si sa che i primi saranno sicuramente gli addetti ai lavori, i medici, gli infermieri, insomma gli operatori sanitari. Ma poi, e qui ci appoggiamo a un meme non fatto da noi ma fatto da TML, nel Regno Unito dalla prossima settimana partirà la sommarimministrazione del vaccino Pfizer, questa è una notizia vera, ha i soggetti più fragili, allora TML inquadra il primo e l'ultimo, il primo è Boris Johnson che è stato, dopo aver parlato a lungo di un'epidemia che non esisteva, è stato uno dei primi invece a essere stato colpito. L'ultima invece è la regina Elisabetta che come sapete insomma sopravvive a tutto e a tutti e spesso ci capita di leggere dei meme che ci spiegano come la regina Elisabetta ci seppellirà tutti, diciamo così. E a proposito di Regno Unito non possiamo non parlare di Brexit, anche qui ce la trasciniamo da tre anni, sono tre anni che parliamo di Brexit e non si è ancora trovato un accordo, nessuno è in grado di dirci quando verrà trovato un accordo definitivo e finalmente si potrà parlare di Regno Unito fuori dall'Europa, neanche il nostro amico Gorilla di Cioccolato, altro meme che ci capita spesso di trovare nel web, ascoltami bene dice il Gorilla, io non ho più molto tempo, guardate che si sta già sciogliendo, il giorno in cui Regno Unito Unione Europea troveranno l'accordo sulla Brexit è niente da fare, si squaglia e diventa latte e cioccolato che è una delle bevande calde che gli italiani apprezzano di più, insomma fa freddo, comincia a nevicare, l'abbiamo visto in questi giorni e questa è una mia riflessione personale in realtà perché abbiamo visto anche nei social tante fotografie della neve, delle meravigliose, la neve che fotografate voi dalla finestra, sono bellissime, io dalla mia finestra mi spiace ma più di questo non riesco a fare, sarà un limite mio, ma insomma è vero che l'erba del vicino è sempre più verde ma qui anche le fotografie, evidentemente i ritocchi, i filtri eccetera eccetera, ma ovviamente è un modo per sorridere, ci si avvicina al Natale e quindi abbiamo visto anche come in tanti abbiano già preparato l'albero prima di quando si fa solitamente insomma l'immacolata per intenderci, già fatto a fine novembre tante famiglie hanno già preparato l'albero e cibo e alcol mi permetto anche di dire che dato l'ultimo dpcm annunciato da Conte sarà l'unico, saranno gli unici conforti per gli italiani e potrebbe andare così allora come ci insegna Bradley Cooper, come ci insegna l'attore protagonista di Una Notte da Leoni, quando finisci i cioccolatini, tutti i cioccolatini del calendario dell'avvento al primo dicembre ragazzi è successo di nuovo, qui lo dice all'interno del film Una Notte da Leoni, quando lui e i suoi amici si risvegliano dopo una notte in cui è successo di tutto ma che loro non ricordano assolutamente niente. Niente, infine chiudiamo con la notizia forse dell'anno, sicuramente ci sono notizie più importanti ma quello che ha colpito di più il mondo è sicuramente la morte di Diego Armando Maradona, aveva compiuto da poco 60 anni, abbiamo visto i modi con cui gli italiani e in generale tutta la popolazione mondiale ha voluto ricordarlo, secondo noi andrà così, nel 2021, nel 2000 i nati a Napoli erano tutti Ciro, Gennaro, Pasquale, Antonio, dal 2021 inevitabilmente tutti i nati a Napoli si chiameranno o Diego oppure Armando e questo sicuramente potrebbe anche, sicuramente ci farà piacere. Questo è Memeconomics, speriamo di avervi fatto divertire, l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a tutti.